Punto F attraverso Francesca R 12 novembre 2023 I berberi sono una popolazione nordafricana di circa 35 milioni di persone. Una parte di essa, non molto numerosa ora, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Come si spiega questa anomalia? Anche la scienza più recente non è riuscita a spiegarla. La scienza più recente si basa soltanto sul fatto che la razza è una ma suddivisa in vari genotipi posizionati in varie situazioni fisiche del pianeta. Non pensa che una volta il pianeta non era posizionato in questo modo e non pensa che c'è un incontro di vari genotipi. E quindi si possono mescolare le caratteristiche di un gruppo con un altro. Oltretutto dobbiamo rientrare nella formazione delle varie differenziazioni fisiche presenti nel pianeta dove c'è stato un incontro di varie razze che si sono mescolate, unite a seconda delle trasformazioni delle aree geologiche del pianeta. Voi poi potete contare fino a un certo punto la vostra crescita, ma è molto più lontana di quello che potete pensare.